Musica Si rinnovano le festività e l'omaggio alla Madonna del Monte Carmelo Siamo qui con padre Raffaele, prima di tutto ancora una volta come sta? Diciamo stanco, bene Appena finita la processione La processione è terminata da pochi minuti, è stata abbastanza lunga Abbiamo fatto un paio d'ore circa di cammino, discese, salite Ma siamo contenti perché è stato un bellissimo momento di fede, di preghiera E' un bel momento nel quale abbiamo vissuto il nostro stare con la Madonna come popolo in cammino E quindi ringraziamo il Signore per questo, anche se la stanchezza si fa sentire Una stanchezza che ti induce anche alla felicità perché quando lo si fa con piacere Allora diciamo questa festa ancora una volta all'insegna della spiritualità prima di tutto La festa della Madonna del Carmine ad Ariano è un appuntamento attesissimo Attesissimo da tanti Ecco io sono sacerdote solamente da quattro anni, sono parroco qui solo da quattro anni Ma ho avuto modo durante questi anni di vedere la fede delle persone L'attaccamento della gente alla Madonna del Carmine Gli arianesi amano tantissimo la Madonna del Carmine E questa è una cosa meravigliosa E' stato testimoniato dalla novena di preparazione alla festa Tutte le sere questa chiesa era gremita all'inverosimile E' stato testimoniato ecco dalla presenza questa sera massiccia alla messa e poi alla processione Sarà testimoniato domani dalla presenza massiccia a dieci celebrazioni eucaristiche nel corso della giornata Io conto di ospitare qui nella giornata di domani intorno ai 3000 pellegrini che verranno per la messa Quindi ecco ringrazio veramente il Signore dal profondo del cuore e sono felicissimo di questo E spero che questo appuntamento della festa Madonna del Carmine Oltre ad essere un momento di folclore, di amicizia, di divertimento Possa essere sempre di più un momento nel quale riscoprire la nostra appartenenza a Gesù La Madonna del Carmine ci ricorda il Monte Carmelo Quindi ci ricorda la salita a Cristo Ci ricorda che la nostra vita spirituale è un cammino di crescita continua E allora questo chiediamo alla Madonna Mi piace la voglia con cui lo dici, con la verba che lo dici, mi fa molto piacere Volevo fare una domanda, mi correga poi se sbaglio Sto vedendo il ritorno alla Chiesa, al fatto proprio clericale dei giovani È una mia impressione o pare che ci sia un riborno, una rinascita? Noi speriamo che non sia una cosa clericale Perché il clericalismo fa male ai giovani e fa male ai cristiani Noi speriamo che sia invece una riscoperta da parte dei giovani di Gesù Cristo Come l'unico che può dare senso alla nostra vita Io penso sempre questo, che tante volte siamo alla ricerca di un senso profondo alla nostra esistenza Basta vedere un po' intorno, abbiamo delusioni coscienti da tutte le parti Probabilmente, anzi sono sicuro, l'unico senso reale che possiamo dare alla nostra vita è Gesù Cristo Gesù, come diceva Papa Giovanni Paolo II e come ripete anche Papa Francesco Non toglie niente a nessuno, anzi dà, dà un senso nuovo, dà una direzione nuova, dà una felicità nuova, dà una forza nuova Ed è questo che spero che i giovani possano riscoprire, ma anche tutte le persone in cammino Intanto io le faccio complimenti per la voglia che mette ogni volta quando si parla di fede Non solo, anche di momenti sociali come questi Un messaggio da dare alle persone che ascolteranno, che vedranno questo video Un messaggio di sincerità, di pace, di amicizia, di solarità Auguro a tutti ogni bene nel Signore e auguro a tutti di poter trascorrere due giorni Qui alla festa della Madonna del Carmine, nella serenità, nella tranquillità, anche divertendoci Abbiamo preparato anche un programma civile dove ci sarà un momento di intrattenimento canoro Ci saranno dei comici di Made in Sud che verranno anche Ci saranno anche dei momenti nei quali avvertire questo nostro essere insieme come amici e come fratelli Quindi faccio gli auguri a tutti dal profondo del cuore e grazie a voi per questa intervista e per il passaggio E grazie a voi come al solito Grazie Non poteva mancare Città di Ariano con le nostre amiche e sorelle Suore Oblate dell'Istituto San Francesco Saverio di Ariano Irpino Prima di tutto come andiamo? Tutto bene? Tutto bene, ringraziamo il Signore veramente per questa missione Che possiamo aiutare pure in nostra missione sia in Filippina che in Indonesia Ah quindi con questa pesca diciamo di beneficenza aiutiamo i bambini delle Filippine e dell'Indonesia Allora noi intanto vi facciamo tanti auguri per il bel lavoro che fate Grazie Fra un attimo faremo la pesca anche noi di Città di Ariano Venite oggi, stasera e domani qui ad Ariano Irpino con le sorelle Oblate dell'Istituto San Francesco Saverio Vogliamo fare un ciao ai nostri amici? Ciao ragazzi, ciao a tutti Ciao ciao Ebbene sì cari amici continuiamo, continuiamo intanto con il nostro amico facciamo qualche crepe Però per tutti voi mi raccomando venite a questa festa che è molto bella Madonna del Carmine stasera ma anche domani vi aspettiamo, ciao Ma come le fai queste crepe? Con la Nutella, con lo cioccolato bianco, con i Smarties, con le nocciole Ragazzi venite da Ariano Irpino, ciao! Non poteva mancare questa sera all'evento dell'evento l'amico Michele Michele come stai? Tutto bene, tutto bene Insomma quando è festa, Madonna del Carmine è sempre una bella cosa Sì sì sì, una bella cosa, una bella atmosfera Ringraziamo tutta la cittadinanza, ringraziamo gli organizzatori La gente si diverte? Abbastanza, abbastanza Michele si diverte o lavora solamente? Ma tu ti diverti lavorare? Ci divertiamo e lavoriamo Signori da parte mia e del nostro amico veniteci a trovare, qui ad Ariano Irpino A San Domenico, via 25 aprile numero 5 Facciamo una presentazione all'americana Ladies and gentlemen, tonight abbiamo the best musician in the world, musician comics in the world Ciro Giustiniani, come stai Ciro? Eh però io non ti capisco, cioè dovevo fare presentazioni internazionali, fallo Però poi a Jesse Purichel che devo capire Niente, Babu, forse devo parlare No, di più No, no, io ringrazio tutta la comunità di Ariano Irpino per la festa della Madonna del Carmine Perché c'è l'amico mio, Don Raffaele Don Raffaele, il parroco Don Raffaele Barro Che comunque lui mi aveva detto di questa serata Io ho rinunciato, voi non ci crederete C'avevo stasera a New York e ho detto no No, perché c'era Don Raffaele C'era Don Raffaele, c'ho dato la parola che doveva andare a Ariano Irpino Tra l'altro tramite, mi ha fatto chiamata l'amico mio Blasio E ho dovuto insomma per forza venire Poi il comitato ha messo a disposizione, oltre alla questione effimera dei soldi Lui che la immiesi carne, che io insomma ha fatto la differenza Che quando si tratta i carni mangio poi, insomma mi trasformo Senti Ciro, ci diamo del tono, possiamo? Sì sì, diamo Ciro Ma dice che la comicità partenopea ha una marcia in più, ma è vera sta cosa? Diciamo fra di noi Penso di sì Diciamo noi i soldi partenopei No, diciamo che la comicità italiana è forte Poi che magari quelli partenopei Medizud non è solo partenopei, è centro-sud Perché poi ricordo anche gli appuntamenti di questi giorni Se non erro, il mio amico Blas mi ricordava che c'è un altro mio collega carissimo Che è Santino Caravella Che è pugliese, dunque non è solo partenopei Però poi glielo potete dire a Santino e Santi, io di partenopei sono più forte No però Noi ti ringraziamo Ciro, questa sera è uno spettacolo all'insegna di cosa No, Raffaele mi aveva chiesto proprio il mio spogliarello Perché io di solito faccio uno spogliarello sexy e la gente rirò veramente Però visto il clima che fa a Frischco insomma mi limiterò a fare Sì sì, dunque stiamo a 800 metri Penso, sono venuto un po' leggere Però penso che no, farò il mio monologo Quello che di solito faccio Non farò San Gennaro perché per ovvi motivi Insomma, a non rucarmi ne soffenderebili Come a non rucarmi a San Gennaro Lasciamo a ogni patrono insomma la propria posizione Il ruolo immagine Cosa dire che stasera abbiamo il piacere di conoscere un comico La comicità a tutto il mondo È stato un privilegio per me, grazie di cuore No, grazie a te Mi complimenti per la voce Una voce calda A parte fa la televisione Tu pensi, pure radio fai no? Eh sì E dunque tutti gli amici Canale 58 Città di Ariano Cioè, la televisione si chiama Canale 58 Città di Ariano Era un altro di voi Bella sta cosa Comunque la voce è bella Grazie di voi No, no, grazie a te Non mi dice niente che ho detto Perché io volevo parlare dei sud di 58 Ho detto Che sono il gruppo che cantano Comicità a Gogo questa sera Questa sera e domani Ne vedrete Sentirete delle belle Grazie ancora Siccome ne siete in tanti L'applauso forte va fatto Al comitato Forte Che ha faticato un anno Per fare questa festa Dunque il comitato Al mio amico Maurizio Blasica Ha fatto di tutto Per farmi venire E un applauso a Don Raffaele Che Aiuto Don Raffaele Che appartiene alla categoria Necchiate senza capilla Dunque io Appartengo alla stessa categoria Siamo quasi un gemello Quando l'ho visto Ma io stiamo in due specchi E qua mi sono dovuto togliere gli occhiali Perché altrimenti si confondeva Una bravissima persona Mi ha accolto Benisse e mi ha detto Che comunque domani mattina Alle 5 e mezza Cioè la prima messa Lui c'ha da fare tantissimo Perché domani mattina Alle 5 e mezza Stai nei picchiarelli Che già neppi Ma come io E una mattina Neppi Ma come io Però al di là di tutto Vorrei fare una domanda Ma qualcuno di voi Guarda me in sud Allora avete visto Che spesso Quando faccio Me in sud Faccio pure San Gennaro Ormai a Napoli È diventato dura A fare San Gennaro La gente mi chiama Proprio San Gennaro La gente mi chiama Gennaro Fammi grazie Faccio i secondi Ieri San Gennaro Faccio la grazia A te ieri Senza capilla e capanze Rammi i numeri San Gennaro Addirittura l'altra volta Camminavo Era domenica pomeriggio Alle 3 di pomeriggio Napoli quasi deserta Perché erano tutti A tavola a mangiare Io camminavo per strada Che dovevo andare a lavoro All'improvviso Mi si accosta una macchina Ho marito Che porta la macchina La mogliere a fianco Chissà all'improvviso Sai che qua Si può marciare a piedi Che la macchina Tutta la mogliere Fa So qua tena a San Gennaro So qua tena a San Gennaro So qua tena a San Gennaro Disse io Guardi avanti Altrimenti viene a Maroni All'improvviso 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 All'improvviso